A seguito dell'arresto di Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni, il dibattito politico e pubblico non si è concentrato soltanto su come è avvenuta la cattura e come sono state condotte le indagini, ma anche sulle intercettazioni al centro della proposta di riforma annunciata dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La questione riguarda sia le leggi che stabiliscono quando e come possono essere usate nelle indagini, sia il fenomeno della loro diffusione non autorizzata sulla stampa, argomento sul quale è intervenuto anche il costituzionalista Michele Ainis a Terramo per l'evento conclusivo del progetto, la Costituzione in classe. In Italia per contrastare l'abuso talvolta si deprime l'uso di strumenti che invece sono utili, quindi probabilmente o forse certamente ci sono stati degli abusi nell'utilizzo di questo strumento di indagine, ma che rimane comunque uno strumento necessario in tanti casi. Per difendere i valori e i diritti sanciti dalla Costituzione è necessario conoscerli, così come è necessario riconoscere quelli che ne sono i principali nemici. Per questo la giornata è stata dedicata alla Costituzione rivolta a studenti e cittadini, con l'obiettivo di confrontarsi su un tema di primaria importanza per l'intera collettività. La Costituzione ha 75 anni, è una vecchia signora, però il mio maestro, si chiamava Temisto Cle Martinez e il suo manuale è ancora diffuso, diceva che la Costituzione è una vecchia signora a cui qualche ruga non toglie fascino. Diciamo che bisogna volerle bene e anche ai diritti bisogna affezionarsi, ogni generazione deve farlo perché altrimenti appassiscono. Per volerle bene però bisogna conoscerle e l'iniziativa della casa editrice Giuffrè e dell'amministrazione comunale di Teramo per propagare la conoscenza della Costituzione è un'iniziativa, come si può dire, capace e meritevole. Grazie.